Ciao ragazzi, benvenuti a questo nuovo appuntamento con il canale YouTube della scuola di batteria Madgrove. Questi appuntamenti sono dedicati alla preparazione dei vari esami che si terranno alla fine di giugno. In questo caso ci prepariamo per il diploma Kids. Allora, intanto voglio ricordarvi che noi collaboriamo come scuola con non solo musica di Dario Ortuso e musica nuova di Riccardo Ortuso. Un ringraziamento a Samuele Pavia che si dedica alle riprese e fra poco lo vedrete anche all'azione dietro la batteria e poi avremo un'altra collaborazione nella settimana prossima. Ma è un mistero, lo svilupperemo la prossima settimana. Adesso andiamo a eseguire groove ottavi ritmi base. Dall'uno al sette. Click. Numero uno. numero due. numero due. numero due. numero tre. numero quattro. numero due. numero tre. numero due. numero cinque. numero cinque. il groove che potrebbe andare bene per accompagnare WI WI Rocio di qui. numero due. numero due. numero 6 1, 2, 3, and 4 numero 7 cassa in levare 1, 2, 3, and go nel prossimo appuntamento nel prossimo appuntamento gli altri groove della pagina ciao ragazzi ciao